Perché CNA è contro la legge che impone il collegio sindacale nelle piccole imprese? Vorrei ben vedere, facciamo parlare ormai da anni di sburocratizzazione, di semplificazione, di aiuto alle imprese e la prima norma ufficiale, concreta, che viene applicata è aumentare i costi per le nostre imprese intorno ai 5.000 euro all'anno. Avere un collegio sindacale di un certo tipo significa avere un costo inutile perché non è di garanzia per nessuno e quindi io penso che sia necessario, è un'altra vessazione, è un impedimento burocratico che noi vediamo non utile nemmeno per la trasparenza del mercato. Quindi stiamo battendo perché questo nuovo impegno venga sostituito, venga tolto, venga cassato e faremo tutto quello che è necessario per arrivare a questo obiettivo. Grazie